Ci troviamo nel vigneto del San Giovese Longwain, oggi iniziamo la legatura delle viti, come avete potuto vedere nel filmato che riguardava la potatura tutte le viti sono state potate a guillo, quindi è stato lasciato un tralcio che in questo momento deve essere legato sul posto. Quest'anno la stagione è molto avanti, il tempo di giornate calde e di sole che ci sono state l'ultima settimana ha favorito il germogliamento precoce dei tralci e quindi questa operazione di legatura richiede molta attenzione, legando il tralcio bisogna stare attento appunto a non rompere i nuovi germogli.